Presidente, è una violazione del regolamento che lei sta facendo. Forzature ne ha fatte tante. Forzature. Questa è una violazione del regolamento, non è più una forzatura. È una violazione del regolamento e dei diritti delle opposizioni. Questo è quello che state facendo, piegare i regolamenti alla volontà della maggioranza. Ma ricordatevi che quando pieghi i regolamenti alla volontà della maggioranza, la democrazia è finita, è finita. E lo avete fatto ogni volta, su ogni legge fondamentale. Questa che state approvando è la naftalina, la naftalina per mantenervi in vita. Questo è quello che state approvando con questa Costituzione. Invece di pensare ai temi dei cittadini, ai redditi di cittadinanza, alle piccole imprese, pensate a mantenervi in vita con questa naftalina che è la riforma della Costituzione, perché altrimenti siete finiti. Sono d'accordo con lei che i regolamenti e ci sono tanti progetti presentati anche dal vostro gruppo su modifiche del regolamento che vanno certamente aggiornati, modificati. Quindi questo non c'è dubbio.